A Torino ha aperto il primo museo italiano del cioccolato e del gianduia. Si trova in via Sacchi 38, nello storico laboratorio della pasticceria Fatish e sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 10 alle 17. La visita è possibile in completa autonomia. I visitatori potranno fornirsi di un'audioguida che consentirà loro di interagire con diverse installazioni presenti all'interno. Le audioguide sono disponibili in 5 lingue, italiano, spagnolo, francese, tedesco e inglese. Una vera e propria esperienza che strizza l'occhio quindi anche ai turisti. L'esposizione si trova al piano interrato, si accede da una scala oppure utilizzando gli ascensori di esposizione. Quindi un museo accessibile a tutti. Un viaggio di mille metri quadri tra macchinari d'epoca, storia del cacao dai Maia e Savoia ed esperienze multisensoriali, tra profumi e aromi in uno scenario davvero suggestivo. Il percorso ha la durata di circa un'ora. Qui si possono incontrare i rivocatori storici in costume d'epoca, gli stessi protagonisti dei cortometraggi girati proprio per promuovere il nuovo museo. Adatto a famiglie, giovani, bambini, tra accattivanti immagini e videoproiezioni dove si possono anche guardare i cartoni animati in una piccola sala cinema. E ancora un angolo dedicato alla salute con diversi cartelli informativi. Poi, alla fine, c'è anche un'area dedicata all'assaggio del cioccolato. Bianco, latte e fondente. E che dire dei lavoratori avissa dove si assiste alla nascita dei gianduiotti dalla loro preparazione alla fase dove vengono incartati. Insomma, Torino era la città perfetta per avere un museo del cioccolato, eccellenza locale di cui possiamo vantarci in tutto il mondo.